Siamo allo stand della Chiesa Nuova, giusto? Cosa fate qui? L'associazione Chiesa Nuova molto attiva, complimenti, hanno fatto il fallo di San Nicola. Qua ti vissi che guardano? Qui abbiamo le opere, le opere di queste ragazze. Poi abbiamo Antonio Cinque, che stai facendo questi vitri, fati che decorate con dei miei posteri, ecco molto belli. Bravo Antonio, poi qui abbiamo, allora tu cosa stai facendo? Era Oresti Legno, lì, la Ponte d'Edo, di Sara Lina Chiesa, complimenti, non solo, c'è anche dell'Ottimo Miele, consigliamo a tutti. Allora abbiamo perso l'opere? Claudio di Race, comunque ecco qua, queste sono le opere, queste sono di Claudio di Race, queste sono di Cinque Cinque e queste è di Antonio. Questo è lo stand di Turnau, abbiamo il Presidente. Buonasera, buonasera. Ecco, salutiamo i nostri amici di Turnau che sicuramente ci vedranno a questo piccolo video. Qua sono la Germania che adoriamo. Eh, visto, guardate qua, ecco qua Claudio di Race, lei ha fatto... Ecco, allora assaggiamo il brulee in diretta. Un saluto in tedesco ai nostri amici di Turnau. E vai, 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 ma... Ok, ok, capitato. Com'è? Grazie. E' buono? Mmm, noi lo stiamo assaggiando, ecco, lo faccio vedere. Ottimo, grazie. Salute? Grazie. Prosit. 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 Presidente della Sassana, l'associazione Gemellaggio Prositano, Turnau. Qui abbiamo altri stand. Cosa fate, venite? Una doppia spinta. Dora che sta sempre impegnata, sembra attiva. Queste sono opere di chi le ha fatte queste? Anna Mandara. Queste sono opere di Anna Mandara. Guardiamo. Questo è molto bello. Molto curato. Ecco qua. Dora, siamo in diretta. Dora, stella fuori. E qua, che bello stenne. Cos'è qua? Cosa c'è qui? Sì, per bene, per bene. Ecco qua. Per bene, per bene, per bene. Tutto a bene Vicenza. Tutto a bene Vicenza. Complimenti a Fiorella e al nostro sante Michele da Lucia, che si seguono il sport. Sambito Positano. Sambito Positano. Sambito Positano. Sambito Positano. Sambito Positano. Si nasconde, ecco qua, scappa a Sambito Positano. Sambito Positano. Eh, sosteniamo i piccoli, quindi siamo bravi. Questo è un altro stand, questo che stand è? Questo è lo stand della beneficenza per la parruccia di Santa Maria Assunta e altro. Va bene. E qua abbiamo le castagne, che già abbiamo avuto modo di assaggiare. E concludiamo con questa bella castagna, che ora assaggiamo.